Alfonso Papa è stato l'unico parlamentare italiano che negli ultimi anni ha visto la Camera votare a favore del suo arresto. Processato per il suo coinvolgimento nell'inchiesta denominata P4, l'ex magistrato napoletano ha trascorso 101 giorni in carcere a Poggio Reale e dal giorno della sua scarcerazione si è impegnato a favore dei diritti dei detenuti e contro la carcerazione preventiva. Ieri insieme ai radicali ha dato vita a una protesta all'esterno del carcere di Poggio Reale. Sto promuovendo la proposta di legge che con il sostegno determinante di Silvio Berlusconi ho presentato contro la carcerazione preventiva e noi oggi annunciamo qui con le associazioni Recuperiamoci, Papillon, i Liberali per la Grande Napoli, Liberi di Volare e tante associazioni che in queste ore stanno aderendo da tutta Italia la nascita del Comitato per la prepotente urgenza. Ci mobiliteremo tutta l'estate e da settembre partiremo chiedendo l'immediata calendarizzazione da parte del Presidente Buongiorno della mia proposta di legge contro la carcerazione preventiva e soprattutto per dare risposta alla prepotente urgenza è stata dichiarata più di un anno fa dal Presidente della Repubblica. Vogliamo ricordare che in questo anno il Presidente della Repubblica quando ha voluto ha inciso in maniera determinante nel chiedere le dimissioni dell'allora Presidente Berlusconi.